Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino Il metodo della paura è condiviso sia dalla mafia che dal terrorismo. È corretto considerare la mafia come una cellula terroristica? No, io non credo che sia corretto. Per la verità, le mafie, in particolare Cosa Nostra, in parte anche l'Andrangheta, hanno in alcuni momenti usato il metodo terroristico. Però c'è una grande differenza fra la paura del terrorismo e quella della mafia. La mafia fra un uso, come dire, ordinario della paura. Nel senso che se io vivo in una zona di mafia, so che se non sono un poliziotto, non sono un carabiniere, non sono un magistrato, se mi piego alle regole, ad esempio pagare il pizzo, non mi succederà niente, quindi non vivo nella paura. L'idea invece del terrorismo è diversa, perché è una paura che colpisce tutti, perché è un evento imprevedibile che può avvenire in qualsiasi momento. Questa è la grande differenza. Ci sono però alcuni momenti nella storia, soprattutto di Cosa Nostra, in cui il terrorismo è stato utilizzato, cioè la paura di massa. In particolare in due momenti. Uno in Sicilia, intorno al 1947, prima e con la strage di Portella della Ginestra, quando la mafia utilizzava il terrorismo colpendo riunioni come questa, oppure riunioni di operai, di lavoratori, riunioni di comunisti, in modo da impedire il cambiamento, da impedire che la società potesse progredire. E poi in un secondo momento, cioè nel 92, quando cominciarono le stragi, diciamo a partire dall'omicidio di Falcone e di Borsellino in poi. In una società globalizzata come la nostra, diciamo che è corretto parlare dei media come degli strumenti che amplificano questa tecnica, questa tecnica della paura? Assolutamente. Se il mio obiettivo è quello di fare paura, più il mio messaggio è amplificato, più otterrò l'obiettivo che mi pongo, l'obiettivo che perseguo. E questo ha avuto due risvolti. Da una parte c'è stata una grande abilità da parte dei gruppi terroristici, in particolare il cosiddetto Stato islamico, che ha pubblicizzato la propria causa come una causa giusta, universale, così convincendo molti ragazzi come lei, giovani come lei, ad aderire a un'ideologia e magari a mettere fine alla propria vita uccidendo delle altre persone. Dall'altro c'è il modo in cui i nostri media, cioè la nostra comunicazione ha reagito a questi messaggi e secondo me ha reagito nel modo sbagliato, cioè ha ulteriormente amplificato la paura. Invece di dare la giusta proporzione ai fatti, ci ha inondato con trasmissioni televisive, articoli, libri, troppi libri, compreso il mio, che hanno aumentato la paura delle persone. In che modo, come lei la descrive, la paura è un abuso di umanità? Perché la paura è un sentimento che ci accomuna agli animali, anche gli animali hanno paura. Serve sostanzialmente a proteggersi dai pericoli e ad affrontare l'avversità, però c'è una particolarità. Nell'uomo si interessa anche con i sentimenti, perché la paura ha sede in una parte del cervello che si chiama amigdala, che ha la forma di una mandorla, infatti viene dal greco amigdala, dove affluiscono le informazioni che vengono dai nostri sensi. Ad esempio, se noi rossi sentissimo odore di bruciato, penseremmo a un incendio e probabilmente scapperemmo. Questa è una paura positiva. Poi mettono insieme anche delle informazioni di esperienza, su quello che hanno visto. Ad esempio, la nostra esperienza oggi ci dice che se ci fosse un folle che grida una bella cosa, come dire Dio è grande, in arabo, se dice Allah Akbar, noi probabilmente avremmo paura, temeremmo un attentato. Ma nella stessa amigdala c'è anche la sede dei nostri sentimenti. E quindi è una cosa molto umana. E soprattutto noi abbiamo una cosa che non hanno gli animali o che hanno in misura diversa gli animali. Noi siamo consapevoli di noi stessi. Sappiamo di non essere immortali, sappiamo di essere molto deboli e di trovarci sotto le intemperie. E quindi sfruttare la paura significa abusare del nostro essere uomini e donne. Grazie. Grazie a lei.